Grazie Sto cercando di dare l'intero germina al mio cane leone Sarà un'impresa non facile Ecco iniziamo bene Sole e cece Andate dall'attacco Ma posso vedere? No perché potrebbe essere una cosa veramente Allora Che bravo Normalmente non si lo lascio fare Vai apri la bucuccia Ma che bravo Fate un'applausulione Grazie Grazie Grazie